Il successo è arrivato con l'onore e il rispetto, una delle fiction di maggior successo targata Mediaset. Da lì la sua carriera è in continua ascesa. Per voi lo stile di Cosima Coppola. Cosima Coppola, presente anche lei al premio Divina Giulia, questa sera riceverà il premio per la fiction. Tu che rapporto hai personalmente con la moda? Guarda, io non sono una fashion victim, nel senso che non la seguo tantissimo. Mi piacciono magari dei capi, anche di anni passati, io ci arrivo un po' in ritardo. Di vintage. Esatto, un po' vintage. Questa sera io sfilo un abito di Impero Couture e sono contenta di indossare questo capo perché è un capo che mi piace e rispecchia anche molto il mio gusto personale. Quindi sono contenta di sfilare per questa casa di moda. Diciamo che Impero Couture ti ha scelta come testimonia per la campagna autunno-inverno 2011-2012. Cosa vuoi rappresentare attraverso la tua immagine? Guarda, io non so cosa posso rappresentare. Mi hanno detto che mi vedono adatta per questo marchio, per l'eleganza, per il fascino, però non sono cose che dovrei dire io in realtà. Diciamo che è il marchio che ti ha rapito. Sei tu che hai prestato al marchio. Esatto, mi ha rapito perché mi piace molto come linea, è una linea elegante, è una linea fine, quindi sono contenta di rappresentarlo assolutamente.